Ad una settimana dalla prima sentenza sul territorio pesarese che ha visto un giudice rigettare il ricorso di un medico che si è opposto alla sospensione dell'ordine in seguito al suo rifiuto al vaccino anti-covid posteriore alla guarigione del virus, c'è un altro caso relativo ai sieri anti-covid che scuote il Tribunale di Pesaro. Un caso diverso perché a finire sotto inchiesta, questa volta sono due medici di base pesaresi di 60 e 62 anni sospettati di aver prodotto una ventina di certificati di esenzione dal vaccino a beneficio di altrettanti professionisti del settore sanitario e dunque a norma di legge obbligati ad essere vaccinati, o meglio obbligati a meno che non si riscontrino patologie tali da andare in conflitto con la somministrazione del vaccino. Quelle condizioni di salute avverse alle somministrazioni che sono emerse nei certificati stilati da due medici. Dalle carte emerge anche che i due indagati si sono rilasciati a vicenda l'esenzione e soprattutto che quasi tutti i beneficiari, circa una dozzina per medico, nel corso del 2021 risultano aver cambiato medico di base in favore della lista pazienti dei due indagati. Secondo la procura l'ipotesi è quella di falsi certificati sulla base di condizioni di salute avverse non documentate. Il magistrato titolare dell'inchiesta ha ascoltato anche i precedenti medici di base dichiaratisi non a conoscenza delle patologie successivamente certificate dagli indagati. Due medici indagati che oggi sarebbero dovuti comparire in tribunale per l'interrogatorio ma gli avvocati hanno chiesto un rinvio in considerazione del periodo feriale e sono pronti a dare battaglia su procedure dichiarate legittime.